Rissa! Una sfida per truppi solitari! Lidia di scuritare! Grazie a tutti 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 Restano solo 5 minuti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti 3 minuti rimasti Grazie a tutti Grazie a tutti Nessun rinforzo Nessun alleato Nessuna pietà Grazie a tutti 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 5 minuti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti 3 minuti Grazie a tutti 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 Grazie a tutti